Signori, eccomi i gol della Domenica. 30 novembre 1928. Nasce a Genova Enzo Tortora, conduttore televisivo e radiofonico. Assunto dalla RAI a soli 23 anni, lavora allo spettacolo Campanile d'Oro. Del 1956 è la sua prima apparizione televisiva, ma il successo arriva nove anni dopo con la conduzione della Domenica Sportiva e della prima edizione dei Giochi Senza Frontiere. nel 1977 Tortora assume la conduzione di Portobello, raggiungendo l'apice del suo successo. Il 17 giugno 1983 Tortora viene arrestato, in seguito a dichiarazioni rilasciate da alcuni collaboratori di giustizia con l'accusa di associazione per delinquere di stampo camorristico. Condannato in primo grado, Tortora viene assolto definitivamente in Cassazione nel 1987 e il 20 febbraio dello stesso anno ritorna in televisione con il suo Portobello. non è stato una persona concreta e precisa, non ha avuto un'altra gente socializzata. un'altra gente socializzata. Grazie! 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 Grazie a tutti.